Top 10 Passiamo ora a Top Video, il video da voi caricato su www.liscio.uno più visto nella scorsa settimana. Il video dell'orchestra New Tropical con Dolce e Brezza. Ora scopriamo chi si trova nelle prime 5 posizioni. 5 Ho camminato nella versione di Renzo Biondi. 4 Ho Marco Dazzi con Una Catena. Al terzo posto c'è... Lara Agostini con Lento. Al secondo posto c'è... DJ Berta con Si Tu Me Das. Primo posto per... Mario Biskin con Macarena. Vuoi rivedere la classifica? Vai su www.liscio.uno. Vi ricordiamo anche il nostro canale YouTube, i social network Facebook, Twitter o Instagram. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao! Ciao!